Armando Verdignone, l'affaire fiscale, ovvero il dispensario del tempo, è un libro edito da Spirali nel marzo del 2012, si tratta di 5 libri raccolti in questo unico volume, abbiamo la virtù e il valore, la direzione, la clinica, una parola originaria, la cosa intellettuale è una risposta non realistica alla verifica fiscale che è in atto da più di 3 anni, da 4 anni adesso circa, l'avvertenza editoriale dice queste lezioni non rilette dall'autore sono state tenute in 3 anni di inquisizione, sotto il pretesto fiscale, l'inquisizione continua, non è proprio una lettura di questo affaire fiscale, non sono nemmeno prese in considerazione i capi di imputazione e tuttavia è questa lettura, è quest'altra lettura. Spirali dice che la burocrazia, come già aveva anticipato Vladimir Bukowski, sta diventando sempre più oprimente, schiacciante, devastante in Europa e anche nel nostro paese, dove già aveva radici solide. La burocrazia nel nostro paese ha un'idea, la sua idea, un fantasma, un'idea che agisce anziché operare. Quest'idea sorregge, alimenta, forza una vera e propria mentalità, la mentalità burocratica, demonologica, sostanzialistica e terroristica, enormemente presuntuosa, infinitamente arrogante. Ciò che non capisce, che non intende, che non ascolta, ciò che non risponde alla visione è finto, demoniaco, criminale. La realtà intellettuale è fictizia, criminale. Qui la burocrazia è più letta, più descritta che analizzata. la pare quasi una mentalità agente, nel senso che riuscirebbe laddove l'inconscio mette invece sempre in scacco qualsiasi tentativo di padronanza e di controllo sulla vita. Certamente possiamo dire che la vita nel pianeta segue questa china, non è la direzione intellettuale la direzione del pianeta, ma questa assenza di direzione intellettuale, questo smarrimento dato dalla conflittologia, dalla guerra dei ceti, delle caste, delle classi, dei gruppi, dei clan, delle bande e quant'altro. L'affaire fiscale è l'analisi di queste questioni. In questo caso, essendo sotto inquisizione, non c'è l'analisi che vada al cuore di questa mentalità. Perché questo governo degli uffici, la burocrazia appunto, sarebbe una macchina che funziona da sola. Questa lettura è una macchina persecutrice. Questa lettura è stata fatta in un modo insostituibile e impagabile da Pierre Legendre, tra l'altro in un libro, poi in più libri, ma in un libro che è stato tradotto in italiano dall'Equipe, mi pare, di Armando de Viglione allora. Si tratta di godere del potere, il jouir du pouvoir di Pierre Legendre. Questa burocrazia si sostiene con lo stesso apparato mitologico che Legendre chiama con la maiuscola il testo ed è lo stesso testo che sta nell'armata, che sta nella chiesa e che sta nell'ufficio. L'ufficio è tra i due. Tra l'altro la burocrazia appunto c'è militare, c'è religiosa e c'è di Stato. Questa sarebbe un aspetto della burocrazia di Stato. Acceniamo appena questo, ma in realtà questa opera ha implicazioni enormi ed è interessantissima e non ha uguali in questa, non solo in questa epoca, ma anche nelle altre epoche. Acceniamo appena alla questione che ha dato il pretesto di titolo, l'affare fiscale. Un bellissimo titolo poteva essere che è contenuto in queste conferenze ipotesi di luce, ipotesi di ascolto, ipotesi di intendimento. L'affare fiscale sembra un libro tra la politica e il fiscalismo. È un libro da vedere nelle librerie che si occupano di diritto e di diritto prettamente commerciale. Questa struttura burocratica non è indagata rispetto all'armata, agli eserciti, non è indagata rispetto alle chiese. Gli eserciti e le chiese sono di tutto rispetto. Non sono di tutto rispetto, ovvero vengono lette. La dissidenza politica, per esempio, viene letta la questione dei farmaci, degli psicofarmaci e quindi diciamo delle multinazionali. Non viene anche letta, c'è tutta una lettura che si può fare in questo testo della finanza. Ma rispetto a quello che è questo attacco inquisitoriale burocratico, dopo che nel 1986 ci fu l'affaire della parola, ci fu un attacco politico, ideologico, pseudo intellettuale. In realtà ancora una volta si tratta di battaglie per il potere. Battaglie per il potere che sono fatte anche nei confronti di chi non ha come fine il potere. Perché varrebbe, non c'è questa lettura? Perché varrebbe, sarebbe come aprire una guerra su più fronti e quindi perdere. Qui si tratta anche di vincere la battaglia di questo attacco che non ha nulla l'intellettuale, che non si interessa l'intellettualità, che prende tutta l'intellettualità come il fittizio. Ma non era di questo aspetto che contavo di accennare, di questo libro che ho già letto due volte e richiede infinite letture. Per dare appena un cenno della forza infinita di questo testo, ben al di là della questione alla quale pare rispondere, all'attacco fiscale, ci sono per esempio, per accennare appena a qualcosa, due di queste 160 conferenze. Una è l'aridi, ed è contenuta nel primo libro, la virtù e il valore. E l'altra è quale direzione, che non è contenuto nel libro sulla direzione. Il libro secondo, che nella numerazione di Verdiglione, che parte da zero, è il numero uno, poiché la virtù e il valore è lo zero, ma sta nel terzo volume, ovvero nel numero due. In quale direzione? Voilà la provocazione. Dopo aver già accennato in qualche scritto che basta diventare un esegete del Genesi, del primo libro della Bibbia, di Bereshit, e leggere le varie letture che sono state date di questo libro originario, per poi uscire per la porta laterale del laicismo e diventare il più grande scrittore in patria. E' stato fatto, e alcuni hanno preso anche il Nobel, non è stato fatto come progetto, è stato fatto non proprio in un modo conscio, ma di questo si è trattato. Secondo Gerardo Haddad, anche con la psicanalisi, la psicanalisi sarebbe per Haddad la figlia illegittima del Midrash, ovvero la formazione ebraica di Freud, passata all'approccio laico, avrebbe dato vita, figlio lanza, alla psicanalisi. Allora, quel teorico di economia politica e finanza, che arrivasse a mettersi in condizioni di leggere la conferenza del titolo Alibi, il capitolo del titolo Alibi, sarebbe il più grande teorico dell'economia e della finanza, non solo nel suo paese, ma anche altrove. Per quanto riguarda quale direzione, strano con il punto di domanda, solitamente questi testi e i loro titoli sono affermativi, quindi, in quel caso, in questo caso è retorica, quale direzione? Un testo che abbiamo già letto, perché era stato pubblicato, uno dei rai testi, pubblicati nella rivista La Ciframatica, diretta appunto da Armando Verdiglione. Sono tre brevi pagine, c'è una lettura dell'episteme, di ciò che sta sopra, e una lettura della sostanza, di ciò che sta sotto, ciò che appare, e ciò che si vede. Ebbene, quel filosofo, non diamo la chance a tanti filosofi, quel filosofo, che è a condizione di digerire intellettualmente, questo testo diventa il più importante filosofo della sua nazione, e non solo. Ovvero, ci sono delle acquisizioni, dei risultati, che chissà quando verranno acquisiti dal dibattito, che è quasi sempre pseudo-dibattito, e si trastulla con questioni feticio. L'economia politica, per esempio, è una questione feticio, se applicata a Niccolò Machiavelli, che non era filosofo, e che non è un filosofo della politica. È l'inventore della politica come arte, e questa è una proposta di Verdiglione. È un libro sull'apertura, e non sul discorso comune, esteso anche nell'università e altrove, che sarebbe il discorso dell'uno che torna all'uno, passando per l'uno. Questo è anche il primo dei post-filosofi Heidegger, ma era anche l'ultimo dei filosofi, Nietzsche. E' un libro sul tempo, ben oltre a quella che è stata, pur interessantissima, la logica del tempo che c'è in quello che è stato maestro, volente o nolente, di Armando Verdiglione, ovvero, è un libro che non si può recensire, è un libro che è data la presa che il sistema di credenze ha su ognuno, metà degli italiani, da quando hanno terminato la scuola, hanno smesso di leggere, non leggono più nessun libro. E questo è un invito alla lettura, ne va proprio della vita. E' un libro essenziale, un libro inaggirabile, un libro ricchissimo, la quale ne seguiranno altre ancora. Non si fermerà qui, non si fermerà per un'inquisizione fiscale. Preambolo, alibi, la crisi, la banca, la borsa, il mercato, come correre, dinnanzi l'aria, il verso, la piega e l'avvenire, Dio, l'economia, la finanza. Altro capitolo che consigliamo al pianeta dell'economia e al pianeta della finanza. La vendita, la soddisfazione, il compimento, l'amore e la crisi. L'audacia e il rischio, la brevità e la conclusione, il rebus, l'enigma, la differenza, la leggenda, la madre, il lampo, l'apertura. La conclusione, passo il piede, la mappa, intendere dei legnosi e dei rischiosi. Bellissimo testo è quello che lo precede, la nave. Concludo così, che pur non essendo a bordo, sono in viaggio con questa nave. Appena un accenno, Armando Verdiglione, l'affer fiscale, ovvero il dispensario del tempo. Edito da Spirali.